Non cambiate abitudini, non stravolgete la vostra quotidianità, siate prudenti, non spaventati. Così Emanuele Antonelli, sindaco di Buster Sizio, nel messaggio inviato tramite la sua pagina Facebook ai propri concittadini, nel giorno in cui proprio a Busto viene accertato il primo caso di coronavirus, il sindaco, nonché presidente della provincia, invita la popolazione a fare come lui, cautela, igiene, serenità. Io stamattina ho fatto le riunioni che dovevo fare, sono andato al bar a bere il caffè, sono andato a mangiare, oggi pomeriggio continuo con tutte le altre assemblee che ho in corso, non ho disdetto chiaramente niente, ma anche voi dovete fare così. Dobbiamo solamente però prendere le precauzioni del caso che ci sono state dettate più di una volta sia da Regione Lombardia che dal Ministero della Salute. E questo perché? Per preservare la salute delle persone anziane e persone che hanno magari qualche malattia in corso. Tutto qua, dobbiamo pensare a loro per le precauzioni, ma mi raccomando, nessun allarme assolutamente. Dobbiamo continuare a fare la vita che facciamo tutti i giorni. Grazie a tutti.